avevamo detto alla vigilia che serviva la partita perfetta per avere una chance la lazio non solo non ha giocato la partita perfetta ma ha compiuto tanti tantissimi troppi errori che sono costati carissimo il primo gol del bayern è un regalo di musacchio imbarazzante secondo c'è un errore di posizione il terzo è un regalo di patrick il quarto erano due gol di acerbi in mezzo ci mettiamo gli errori a centrocampo tanti palloni sbagliati e quindi così si spiega un risultato così severo un 4 a 1 che purtroppo è giusto perché il bayern ha giocato meglio della lazio ha fatto molti meno errori della lazio la lazio si è praticamente battuta da sola perché quando regali tre gol al bayern è allora che vuoi fare non me l'aspettavo onestamente pensavo che la lazio giocasse senza pensieri giocasse bene e invece è stata forse la peggior lazio dell'ultimo mese e mezzo una squadra che sbaglia così tanto in difesa anche acerbi ci metto perché anche acerbi oggi ha giocato malissimo contro bayern non troppo ipermettere al centrocampo ancora minico i savici è partito bene si è spento nel secondo tempo oggi i migliori in campo di gran lunga di gran lunga sono stati lazari e marosic lazari ogni volta che prendeva palla riusciva ad andare via marosic in zaghi a un certo punto l'ha messo anche in porta e faceva bene anche là marosic veramente stratosferico ha giocato anche come terzo di difesa e ha fatto bene però sono forse le uniche due note positive di questa partita ciro immobile in ombra luisa alberto abbastanza opaco minico i savici l'ho detto correa ha segnato il gol correa è quello che secondo me poteva fare la differenza ma ha giocato cinque minuti nell'altro negli altri 85 ha passeggiato e non va bene contro bayern non te lo puoi permettere così come non ti puoi permettere gli errori di patrick che inspiegabilmente ha tolto il pallone alleva e ha fatto e ha lanciato contro piede bayern per il terzo gol un risultato che alla vigilia onestamente non pensavo perché pensavo che il gap fosse inferiore però se una prestazione già non fantastica la condisci con tanti errori ecco qua che il 4 a 1 è servito è servito e speriamo serva anche a tare e allo tito a capire quello che serve per portare la lazio a certi livelli a un livello superiore musacchio terribile non ha finito neanche il primo tempo tra tolulici non è che le cose sono andate meglio è uscito patrick nel secondo tempo un disastro anche lui male ma anche acerbi male insomma oggi possiamo salvare lazari marusic ed escalante che è entrato nel secondo tempo e devo dire che ha avuto un buon impatto sulla partita peccato perché la lazio poteva anche segnare altri gol poi dall'altra parte c'è neuer per cui è difficile in chiusura una piccola postilla su un arbitraggio imbarazzante sul 1 a 0 per i bayern c'è un rigore grande come una casa per la lazio non riesco a capire come non siano andati al var perché il rigore è clamoroso clamoroso e ci sono un paio di cartellini gialli dati alla lazio ridicoli ma la lazio non ha perso per colpa dell'arbitro certo con quel rigore magari era un'altra partita ma la lazio non ha perso per l'arbitro ha perso per i tanti troppi errori che contro bayern monico non ti puoi assolutamente permettere di fare buonanotte